ed eccoci in diretta siamo puntualissimi sulla pagina calabresi tema riuniti la nostra compagnia di teatro di macerata che ha organizzato e finalmente inizia il festival tiresia festival di teatro transmediale allora che ci facciamo in una diretta social è una lunga storia ma cerchiamo di condensarla tiresia avrebbe dovuto avere luogo a marzo scorso sappiamo bene le emergenza in cui siamo piombati tutti quanti e purtroppo quindi il nostro festival alla sua prima edizione avrà luogo più in là pensiamo a fine anno ma attenzione abbiamo almeno recuperato un pezzettino del nostro festival è un pezzettino che a me piace tantissimo gli incontri critici che si chiamano figli di tiresia devo dire che grazie al lavoro compiuto dal laboratorio macerata teatro che ha affiancato la ctr e laboratorio macerata teatro che è composto da studenti dell'università di macerata e ringrazio l'università che ci ha dato per il laboratorio grazie a loro agli studenti siamo riusciti ad attivare cinque appuntamenti oggi siamo al primo e a moderare questo incontro insieme a me c'è appunto uno dei rappresentanti del laboratorio macerata teatro un saluto a serena montecchiari mi senti proviamo subito paolo grazie mille quest'oggi speriamo che questo che questo incontro sia fruttifero per tutti ci perché ci ascolta se ecco e chi vorrà commentare soprattutto e creare un dibattito costruttivo l'incontro di rava esatto l'incontro di oggi si intitola qual è la vera giustizia e verterà sul tema della rieducazione dei detenuti e su un nuovo metodo che si sta delineando negli ultimi anni che è quello della giustizia riparativa ad esporci questo tema che abbastanza spinoso ma anche attuale è il professor giorgio berti docenti di metodi e tecniche del servizio sociale all'università di urbino e assistente sociale al ministero della giustizia quindi non voglio rubare altri minuti preziosi a questo intervento e lascio la parola al professor grazie dell'invito io inizio dato che sono davanti a degli attori a dei registi teatrali raccontando una storia perché parlavano francesco cucini che nella canzone vecchio bambino diceva mi piacciono le storie racconta gli altri anche a me piacciono le storie volte nel lavoro che faccio con i minori sottoposti a procedimento penale che è la mia principale attività oltre quello di insegnamento università di urbino io racconto delle storie perché le storie sono molto importanti da raccontare ma anche da ascoltare allora la storia è questa alla fine del 1700 ad atlanta negli stati uniti in un tribunale un calzolaio si trovava a stare lì per questioni che lo riguardavano e assiste alla conclusione di un processo nel quale una persona per un reato di furto venne condannata ad alcuni anni di carcere lui questo calzolaio propose al magistrato al giudice che aveva condannato questa persona colpevole di un furto credo non ricordo bene che anziché mandarlo in carcere lo ospitasse lui nel suo bottega di calzolaio e al posto del carcere lui avrebbe insegnato un mestiere e se si fosse comportato male sarebbe ritornato in carcere da quella semplice esperienza da un addetto da un non addetto alla giustizia tradizionale professionale nacque un'esperienza che tuttora è diffusa in tutto il mondo che la cosiddetta probation cioè la la messa alla prova che fondamentalmente parte da un presupposto e cioè che laddove ci sono le condizioni per non fa stare una persona in carcere perché pericolosa perché perché non si è in qualche modo dire non è consapevole del disvalore del danno che ha reato la società bene se ci sono le condizioni solo se ci sono le condizioni una persona è meglio che si rieduchi no e lavori per non commettere più il reato il danno alla società pensate quelle john augusto su quel calzolaio gestì poi più di 2000 esperienze di probation quelle esperienze divennero delle leggi divennero delle esperienze in tutto il mondo e anche qui in italia ecco questa storia mantiene degli elementi c'ha degli elementi molto interessanti che la giustizia non è solamente dei professionisti va bene dei magistrati degli avvocati degli assistenti sociali degli addetti alle carceri ea quant'altro ma la giustizia un qualcosa che riguarda la collettività e il reato nasce dentro una comunità ed è bene con la comunità in qualche modo se ne faccia carico allora finita questa storia questa premessa il tema che voi in qualche modo mi avete proposto riguarda alcune parole chiavi che sono parole molto pesanti estremamente pesanti anche nella vita attuale di queste ore di queste settimane anche rispetto all'italia di quello che sta accadendo nelle carceri cura liberazione dei mafiosi è pesantissima le parole sono carcere sicurezza giustizia riparativa vittime colpevoli innocenti reo in una parola che rapporto c'è tra carcere sicurezza tra giustizia penale e sicurezza nostra della società delle persone di ognuno di noi quando va in giro quando sta nelle case sono temi molto complessi ma sono che in temi anche tutti interconnessi interconnessi io mi verrebbe voglia di farvi subito una domanda io non so se qualcuno vuole provare a scrivere nella chat qui paolo nanni e serena montecchiari potrebbero aiutarmi non so se qualcuno magari scrive è benissimo a quei quelle persone che ci stanno seguendo adesso in diretta facebook vorrei fare questa domanda va bene nel 2019 va bene ma adesso darò dei numeri insomma che che indicano orienta un orientamento nel 2019 secondo voi in italia quanti sono stati gli omicidi volontari cioè quelli commessi proprio volutamente per uccidere o considerate che in italia abbiamo la mafia la camorra l'andrangheta la sacra coronunita tante altre mafie abbiamo i femminicidi insomma l'italia è un paese che da questo punto di vista qui la criminalità organizzata è insomma è molto presente ecco tra quelli della legati alla criminalità la delinquenza ma anche gli omicidi volontari di quelli che accadono in ambito familiare insomma pensi comunque i femminicidi quanti sono stati in un paese di 60 milioni di abitanti in assoluto dico il 2019 ma il 2018 più o meno il dato è quello 2017 è lo stesso vediamo se c'è qualcuno che butta la delle delle cifre posso provare io sì un 3.219 3.219 roberta frungillo dice trecento 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 serena devi provare anche due eh non posso ah tu lo sai serena sì me l'avevi detta quando ci siamo parlati no no chi lo sa deve stare quindi abbiamo un 3200 e un decimo 300 da parte di roberta e massimiliano ma dai 300 sono solo i femminicidi non è possibile che siano così pochi ragazzi dai 500 vediamo qualcun altro diamo tempo di rispondere sì sì vediamo se arrivano altre risposte e intanto eh che attendiamo le altre risposte vorrei anche chiarire come mai un festival di teatro si arriva a parlare di un argomento sociale così scottante perché Giorgio tu lo sai forse ti sarà già capitato se tu parli a qualcuno di giustizia riparativa la reazione potrebbe essere ah ma tu stai dalla parte dei delinquenti eh tu non vuoi che vengano puniti tu devi stare dalla parte delle vittime allora la l'intenzione per cui ti abbiamo chiamato per cui Serena ha proposto il tuo nome e questo argomento è stato il fatto che avevamo come spettacolo in programma eh finché galera non ci separi uno spettacolo eh di grande valore di Pierpaolo Capovilla in cui venivano messe in scena poesie dal carcere cioè di un detenuto Emilio Paolucci che sta scontando una pena lunghissima al carcere di Pescara e in queste poesie figuriamoci con la messa in scena con la sensibilità di Pierpaolo Capovilla devo dire che venivano fuori dei tratti di umanità compressa che erano veramente strazianti speriamo di recuperare questo spettacolo intanto andiamo a vedere gli altri le altre risposte allora eh mille da parte di Alessandra eh qualcuno si è avvicinato Giorgio? Facciamo come tutte i seri quiz televisivi quando voi mi dite stop alle valutazioni ad estime io mi fermo e do la risposta però in realtà devo fare un'altra domanda collegata a questa io direi che possiamo fermarci perché se no il tempo eh corre abbastanza allora io adesso abbiamo avuto queste stime benissimo alle stesse persone che hanno risposto e quindi anche a voi eh faccio quest'altra domanda negli Stati Uniti nello stesso periodo quindi 2018-2019 considerando che gli Stati Uniti hanno una popolazione cinque volte maggiore 300 milioni di abitanti quanti sono stati gli omicidi eh volontari secondo voi o considerate gli Stati Uniti è un paese eh dove insomma abbastanza punitivo dove in qualche paese c'è anche in qualche stato c'è anche la pena di morte dove la polizia può arrestare con una certa facilità insomma va bene quanti sono stati in un paese cinque volte maggiore gli omicidi volontari? Diciamo che negli Stati Uniti teoricamente c'è una deterrenza dovuta alla pena maggiore che in Italia perché sono tendenzialmente più cattivi no? Giusto? Quando si dice che la pena di morte serve a prevenire il crimine perché comunque fa spavento al criminale si sostiene più o meno questo quindi eh ci stai chiedendo se negli Stati Uniti ci sono cinque volte i delitti dell'Italia oppure no io ti dico che secondo me sì quindi io dicevo 3.000 in Italia dico 15.000 negli Stati Uniti quindi lo stesso rapporto. 6.000 dice Roberta Frungillo, Marcello Lamatina dice alcune migliaia quindi da 2.000 a 3.000 immagino che intenda. Vediamo se arriva qualche altra risposta. C'è Chiara che ti saluta Serena. Chi è Chiara? È la mia amica. Ciao. Chiara dacci anche tu la risposta. Dai partecipa. Italia e Stati Uniti. Quanti sono gli omicidi volontari in un anno nel 2019? 300 milioni di persone. 300 milioni di persone negli Stati Uniti, 60 milioni in Italia. Quindi il rapporto è di 1 a 5. Ok. Vabbè. Fermiamo. Vai. Benissimo. Allora adesso vi do i dati esatti. Allora in Italia nel 2019 gli omicidi volontari sono stati 379. Va bene? Quindi 400. Considerate che una volta ho fatto questa domanda durante una lezione qualcuno ha detto 150.000, qualcuno ha detto 200.000. Insomma vabbè qualche problema c'era insomma di stima. Allora sono stati meno di 400. Meno di 400. Considerate che 150 sono i femminicidi. Questi sono compresi. Negli Stati Uniti stesso periodo sono 10.000. 10.000. Allora adesso seguitemi pochi secondi. Se in Italia gli omicidi volontari sono stati 400 e se negli Stati Uniti la popolazione cinque volte maggiore 4 per 5 fa 2.000. Va bene? Sarebbero dovuti essere 2.000. E invece sono stati 10.000. Ora questo dato in qualche modo già ci indica qualche cosa. Perché come diceva Paolo gli Stati Uniti è un paese abbastanza punitivo, repressivo, vi do un altro dato. Qui non faccio la domanda perché sennò diventa questa diretta sembra un quiz. In Italia attualmente nelle carceri c'è una popolazione detenuta mediamente tra le 60 e le 70.000 persone. Va bene? Anche qui negli Stati Uniti cinque volte di più dovrebbero essere 6 per 5 300.000. Ecco negli Stati Uniti mediamente in un anno la popolazione detenuta è 2 milioni e mezzo di persone. Quindi in carcere si va con estrema facilità negli Stati Uniti in una maniera enormemente più alta dell'Italia. E nonostante questo abbiamo visto che negli Stati Uniti ci sono in proporzione molti più omicidi. Cinque volte il tasso di omicidi e cinque volte maggiore l'Italia. Bene. Allora questo in qualche modo già ci dà delle indicazioni che la sicurezza, la sicurezza nostra, nelle nostre case, nelle nostre strade, non è legata solo alla presenza di un carcere più o meno utilizzato. Va bene? Ma la sicurezza della società è legata a tanti fattori. E questo oramai è un dato acquisito. Tutte le persone di vario orientamento oramai questo ne tengono conto. O meno, quantomeno, gli operatori, quelli che si confrontano con le storie reali delle persone ma anche con i numeri, insomma, e le statistiche. Bene. Allora, sì, negli Stati Uniti il possesso di armi personali è legale e quindi è più facile avere... Ecco, questa che dice Roberta Frungillo è un'osservazione estremamente pertinente, nel senso che la sicurezza, per esempio, di una società è legata alla presenza o meno di armi. Ecco, questo per esempio, vedete, è un altro aspetto, è un altro aspetto estremamente importante. Allora, veniamo un po' anche al fulcro, insomma, al nucleo un po' di questa discussione. Qual è il ruolo del carcere, cos'è questa giustizia riparativa? Ora, voi mi dovrete anche perdonare, anche io so che c'è qualcuno addetto ai lavori, insomma, il tempo è poco e il mio scopo, ve lo dico, è anche suscitare un po' di interesse e poi ognuno se vuole lo va a coltivare, no? A questo argomento. È chiaro che la mia è incompleta, no? Come esposizione. Quindi do dei flash per suscitare la curiosità. Flash che sono derivanti un po' della mia attività di insegnamento, ma il lavoro che faccio con i minori sottoposti al procedimento penale. Ma il discorso riguarda anche gli adulti. Allora, cominciamo a vedere un po' alcuni elementi di questa giustizia riparativa. Possiamo pensare che la giustizia è fatta probabilmente di due pilastri. C'è una giustizia tradizionale, va bene? Il processo, gli avvocati, i magistrati, le vittime, i colpevoli, eccetera, eccetera. Poi c'è un altro pilastro che è la cosiddetta giustizia riparativa. Non è sostitutiva della giustizia tradizionale, ma è un modello, cioè una serie di esperienze, una serie di pratiche, una serie di idee, una serie anche di ipotesi che da un po' di tempo si sta affiancando alla giustizia tradizionale. Qual è l'idea di fondo? L'idea di fondo è che se noi non mettiamo in collegamento l'esperienza di chi ha commesso un reato, a volte grave, a volte meno grave, con l'esperienza di chi ha subito questo danno della vittima, insomma, non c'è una giustizia compiuta, c'è una giustizia parziale. Va bene? Mettere insieme queste due realtà molto distanti che hanno subito una ferita, la vittima ha subito una ferita di chi ha commesso un reato. Noi abbiamo visto chi lavora nella giustizia che la vittima, laddove ha la possibilità di incontrare il reo, se lo vuole ovviamente, e poi se c'è tempo dirò cosa avviene in questo incontro e come avviene, va bene? La vittima ha un senso e un vissuto di maggiore giustizia. Molte volte, molte volte, le persone che sono vittime ad un reato, il cui colpevole è condannato anche a molti anni di carcere, ha un vissuto di incompletezza, va bene? Rispetto al senso di giustizia. Perché la vittima, per una serie di motivi legati al procedimento penale, magari potrà essere risarcita, ma il suo dolore, la sua sofferenza, non è mai accolto dalla società. Direi, per dirla, che la vittima è una parte del processo, adesso tecnicamente non è proprio così, la vittima è una parte del processo, ma non è riconosciuta come una persona, va bene? Non sto dicendo che i giudici, gli avvocati, tutti gli altri non stanno facendo bene il lavoro, sto dicendo che c'è un sistema della giustizia tradizionale che in alcune situazioni non tutela la vittima in tutta la sua interezza, in tutto il suo vissuto. Va bene? E allora che c'entra? Che c'entra il discorso che facevo all'inizio, la sicurezza, il carcere, gli omicidi volontari e questa giustizia riparativa? C'entra, c'entra perché è tutto legato, è tutto legato. Io vi posso dire questa cosa in maniera molto sintetica, che a volte io ho incontrato delle persone, ho avuto a che fare, lavorare con delle persone nei caratteristiche dei reati, che magari accettano una pena, una condanna in carcere, tentativa, ma non accettano di incontrare la loro vittima, perché è faticoso, perché è doloroso. La vivono come una pena accessoria ancora più grave della detenzione. E questo incontro, quando avviene, se c'è tempo lo diremo come avviene, avviene in tanti modi, fa bene alla vittima e fa bene anche il reo e si produce paradossalmente una situazione, se volete, surreale, ma che è molto reale, in cui la vittima si prende cura del reo. Pensate che eresia che si dice, ma in realtà è così. Io vi cito un libro estremamente interessante, che è il libro dell'incontro, l'edizione è il saggiatore. È un libro che racconta un'esperienza durata quasi dieci anni, in cui le vittime dei terroristi, all'epoca appunto del terrorismo italiano, hanno incontrato i terroristi che erano in carcere, che erano stati condannati, e attraverso un percorso molto doloroso, fatto di incontri, fatto con dei mediatori penali, estremamente bravi, competenti, perché per fare mediazione penale bisogna essere preparati. Io sempre non sono un mediatore penale, faccio alcune esperienze di giustizia reparativa, ma non sono un mediatore penale. Dopo questo incontro, durato quasi dieci anni, in cui il vissuto dei figli delle vittime del terrorismo si sono incontrati con dei mediatori, con i terroristi, c'è stata una sorta di superamento del dolore, di superamento della sofferenza che aveva provocato dei danni anche permanenti nella vita delle persone. Ecco, questa è un po' a grosse linee. Allora vedete che il carcere non è semplicemente prendere una persona e chiuderla dentro una cella, il carcere in questa prospettiva non abbandona la sua finalità anche punitiva, ma anche contenitiva, ma anche di tutela. Ci sono delle persone che sono pericolose e che devono stare in carcere, su questo è evidente, su questo nessuno mette in discussione, ma il solo carcere per tante altre persone, se solo restrizioni in una cella, diventa paradossalmente più pericoloso. Chiedo ai miei moderatori se la cosiddetta spettocolorizzazione della giustizia favorisce e unibisce l'idea di una giustizia riparativa. Allora, questa è una domanda molto pertinente. Complimenti a chi l'ha fatta, insomma, a Marcello Lamatina. Tutto ciò che viene reso spettacolo, in qualche modo è una ferita alla interiorità, è una ferita all'interiorità. Il senso di risarcimento di ciò che uno ha fatto non può essere spettocolorizzato. Una volta ascoltai un mediatore, il mediatore opportunamente preparato lo può fare tutti, deve essere molto preparato, ma il mediatore non è uno che ha una formazione giuridica. Il mediatore può essere chiunque, va bene? C'è un corso di formazione per i mediatori penali, c'è una cultura di base, ovviamente, insomma, va bene? Ecco, la spettacolarizzazione se in qualche modo inibisce l'idea di una giustizia riparativa? Sì, sì, perché la spettacolarizzazione in qualche modo rovina i vissuti della vittima e del reo. La spettacolarizzazione ferisce l'interiorità della persona. Il cammino verso la consapevolezza di ciò che si è fatto non può essere oggetto di una conferenza o di un servizio televisivo. Io dico sempre che il giornalista che va da una madre a cui qualcuno gli ha ucciso il figlio e dice lei perdona il suo assassino, ecco io personalmente lo espellerei dall'ordine giornalisti perché è una domanda talmente banale, in questo momento non abbiamo bisogno della banalità nella nostra società. Il perdono, a parte che è un cammino personale che può durare anni, a volte non porta a nessuna parte, no? Ma la riparazione non si tratta di perdonare, la riparazione è fondamentalmente una occasione di incontro tra la vittima e un colpevole, è un reo insomma. Posso farvi raccontare un'altra storia molto semplice? Se non ci sono domande vado avanti. È un'altra storia molto semplice ma che rende molto bene l'idea di che cosa vuol dire mediazione. Abbandoniamo i reati gravi, il terrorismo, parliamo dei fatti molto semplici. Va bene? Io ovviamente altero un po' i dati di questo racconto che è un racconto vero, va bene? Però modifico. Allora, dei gruppi di ragazzini che vanno in campagna e uccidono delle galline di una signora anziana. Ebbene, insomma, ragazzi, no? Uccidono delle galline di una persona anziana, che vuoi che sia? E vabbè, anche penalmente, che anche penalmente che cosa vuoi che accade? No? Certo, è una cosa molto grave. Molto. Una cosa grave è quello che hanno commesso. La signora anziana che viveva sola in campagna con queste galline, gli è stato risarcito, no? Il prezzo delle galline, ma era insoddisfatta, era inquieta, aveva un senso di non giustizia nei suoi confronti. Fu organizzato un incontro tra questi ragazzi, cinque, che avevano fatto questo atto di vandalismo e la proprietaria di queste galline. Che cosa è emerso? Sono emerse tante cose. Allora, queste due cose, le dico due, tra le tutte. Anzitutto, la signora anziana che viveva da solo, che fino all'incontro con chi aveva commesso questo reato, aveva paura, paura di vivere da solo a casa, perché coloro che erano entrati e lei non aveva visto, erano per lei dei fantasmi, e dei fantasmi si ha paura. Allora, vedendoli faccia a faccia, quei mostri erano dei ragazzi, non erano più dei mostri. Bene, e questo è già un grande risultato. Poi c'è stato un altro risultato molto importante, che sembra un dettaglio, ma noi non possiamo pensare tutto solamente secondo i nostri criteri. Quella signora anziana coltivava e allevava le galline perché regalava le uova e le galline alla casa di posto del suo paese. E per lei era un motivo di vita, era un motivo per cui era importante alzarsi la mattina e allevare le galline. Le chiamava uno a uno. Quei ragazzi, quando hanno ascoltato quella storia, si sono resi conto che non avevano solamente ucciso delle galline, avevano fatto di qualcosa di molto più grave, di molto più grave. Ecco, questa è un po' il senso della giustizia riparativa. Tra queste ho portato un esempio micro, che nessun giornale, nessuna trasmissione andrà a raccontare. Ma chi vuoi che racconti la sofferenza di una signora anziana e di cinque ragazzotti che magari i genitori avranno detto hanno fatto una ragazzata? Ma chi è che quantifica e qualifica la sofferenza di quella signora anziana? Quindi questo episodio micro, ma questa è un'altra storia del terrorismo che io vi ho raccontato. Molto interessante perché sei passato da parlare di terrorismo a un atto micro che appunto, come dici tu, quasi non si degna di attenzione. Invece magari c'è dentro tanta sofferenza che la giustizia riparativa tiene in considerazione, a differenza dell'altra. Esatto, esatto. Questo che dici te Paolo è estremamente importante perché paradossalmente chi lavora un po' in questa prospettiva, in cui appunto qualcuno dice voi volete liberare tutti, ma no, è proprio il contrario. Vogliamo responsabilizzare tutti molto di più rispetto a quello che fanno. È molto più comodo commettere un reato, starsene chiusi in cella e non rispondere di ciò che si è fatto. Vedo Serena che... Serena? Anche perché molto spesso poi chi magari ha commesso quel reato esce dopo la pena e lo ricommette? Cioè non c'è educazione molto spesso nei carceri, nelle carceri. Questo è un altro grande argomento. La Costituzione italiana prevede la pena come rieducazione. Ora, quello che diceva Serena è estremamente, come dire, attuale. Cioè come utilizziamo noi il carcere, va bene? Io il rapporto con il carcere è estremamente residuale nell'ambito minorire. Il carcere minorire in Italia è residuale, c'è una media di detenuti di 500 persone mediamente al giorno, va bene? Quindi il carcere minorire, la detenzione minorire in Italia è veramente ridotta ai minimi termini e anche qui abbiamo dei tassi di delinquenza minorire che rispetto ad altri paesi dove il ricorso alla distinzione minorire è maggiore è molto più basso, nonostante tutti quei fattori di rischio che sono la criminalità organizzata. Ecco però Serena poneva il problema che cosa fare in carcere. Allora, dentro il carcere, oramai, se voi parlate con chi lavora dentro il carcere, con i miei colleghi che lavorano con gli adulti, a Macerata c'è un ufficio che si chiama Ufficio per Esecuzione Penale esterno di Macerata che lavora insieme ad Ancona nelle Marche con i detenuti e che lavora per le misure alternative alla detenzione, vi diranno tutti questa cosa qui, che chi in carcere, ma chi dal carcere può usufruire di possibilità di lavorare all'esterno del carcere, qui ci sono alcuni istituti giuridici, si chiamano misure alternative alla detenzione, non abbiamo tempo per spiegarli nel dettaglio, se c'è tempo magari li accenno, ecco però è chiara una cosa, chi ha la possibilità in condizioni di sicurezza, sicuramente, di avere dei permessi premio per andare a trovare i suoi familiari, per chi ha la possibilità di stare all'esterno del carcere e tornare a dormire entro il carcere la sera, per chi ha la possibilità magari di fare la detenzione domiciliare a casa anziché in carcere, per chi ha la possibilità invece di non stare per niente in carcere, ma si chiama in affidamento in prova al servizio sociale, per fare dei programmi terapeutici o per lavorare o per imparare il mestiere, beh qui è evidentissimo, è evidentissimo, è chiaro a tutti, i numeri parlano chiaro, qui non posso darvi dei numeri, però ve lo dico come tendenza, chi fa queste esperienze rieducative sia dentro il carcere, ma sia all'esterno nel carcere, sempre sottoposto a un controllo, ha un tasso di recidiva, cioè di ricommettere reati estremamente più basso, estremamente più basso. Se uno se ne sta vent'anni in carcere e non fa niente, esce e ricommette un reato, la probabilità è altissima. Chi dentro al carcere fa corsi di formazione professionali, fa lavoro all'esterno, gli ultimi anni del carcere può andare a lavorare all'esterno o fare programmi terapeutici, ha un tasso di recidiva molto più alto. Allora è chiaro che anche qui la sicurezza non dipende più da quante persone metto in carcere o da quanti anni io allungo una pena, ma dipende da tanti fattori, da tantissimi fattori. Serena, prendi il pallino che vedo i commenti. Esatto, abbiamo due commenti, uno di Massimiliano che dice l'episodio dell'anziana signora sottolinea l'evidenza che la realtà è molto soggettiva. Un singolo evento viene vissuto da tanti punti di vista diversi che la divulgazione giornalistica spesso banalizza. Sono d'accordissimo. È giusto, è giusto e questa osservazione mi permette di dire una cosa molto puntuale. Io so che ci sono dei mediatori penali che mi stanno ascoltando, quindi devo stare attento a non commettere errori perché sennò appena finita la diretta Facebook mi castigano e non voglio essere castigato dai mediatori penali, però questa osservazione è giusta. Perché? Perché la giustizia riparativa, l'incontro di mediazione, qui stiamo un po', Paolo e Serena, stiamo un po' percorrendo due strade parallele, il carcere e la giustizia riparativa, ok? Però sono strade che si incontrano ogni tanto. Bene, allora, è giusto quello che diceva l'ultima osservazione, perché? Perché la mediazione non può essere imposta. Se la vittima non vuole incontrare il colpevole, nessuno la obbliga. Nessuno la obbliga. Cosa c'entra con l'osservazione che ha fatto la persona che adesso non mi ricordo il nome? C'entra perché... Massimiliano, perché giustamente c'è un punto di vista che è anche molto soggettivo, va bene? E noi dobbiamo rispettare anche chi decide di non incontrare la persona che gli ha arrecato un danno. E quindi a maggior ragione quello che diceva Massimiliano, che a volte un giornalismo in alcuni casi, in altri casi è molto qualificato, in alcuni casi banalizza, è giusto, è giusto, è vero. Ma qui ritorna un po' il discorso che dicevamo prima, di non spettacolarizzare. Cioè bisogna... Alcune cose non si possono dire pubblicamente, se non dopo un lungo percorso. Guardate, approfitto anche per dirvi una cosa. L'esempio... Il libro che ho citato, il libro dell'incontro, l'incontro tra terroristi e figli delle vittime del terrorismo. Oltre al libro, voi su internet, se andate su YouTube, trovate molti filmati. Se voi su YouTube digitate giustizia riparativa, mediazione penale, trovate molte e molte esperienze. Vi do un altro riferimento, altri due riferimenti, qui ci tengo molto. Una è una rivista, che è anche un link, è Ristretti Orizzonti. È una rivista editata dai detenuti del carcere Due Palazzi di Padova, all'interno del quale ci sono molte esperienze interessanti di mediazione, di giustizia riparativa, di lavoro all'interno del carcere e anche all'esterno. Lì opera una cooperativa Giotto, che è un'importante cooperativa alimentare, che fa dei prodotti dolciari e assolutamente di altissima qualità. Ristretti Orizzonti. Trovate la rivista e anche il link. Poi trovate un altro libro, un documentario che io non ho visto, ma me l'ha segnalato dei miei colleghi, www.lostrappo.net, che parla di esperienze di giustizia riparativa. Vorrei citarvi però un'esperienza molto interessante, che per chi è dentro il settore è un punto di riferimento, è un punto di riferimento, ed è l'esperienza fatta in Sudafrica, da Nelson Mandela. Praticamente, Nelson Mandela, quando il Sudafrica si liberò dall'apartheid, c'era una minoranza che aveva oppresso la maggioranza nera. E c'era un odio, un odio molto grosso, dei neri verso i bianchi, che erano stati feroci nei confronti della maggioranza. Bene, Nelson Mandela propose l'istituzione di una commissione per la verità e riconciliazione, presiduta dal vescovo anglicano Desmond Tutu, premio Nobel per la pace, che pubblicò poi un libro in cui raccontò questa esperienza, non c'è futuro senza perdono. Bene, che cosa accadde in quel paese? Grazie a questo grandissimo statista, Nelson Mandela. Nelson Mandela, lo Stato sudafricano, propose a chi si era reso colpevole di gravi crimini, più o meno gravi, verso le persone oppresse, doveva, poteva raccontare le sue colpe, le sue responsabilità, e incontrare le proprie vittime, e in cambio si garantiva una sorta di, adesso non so se questo è il termine giusto, di amministia, ma una sorta di riconciliazione. Ecco, Nelson Mandela, grazie a questa sua grandissima scelta, permise al Sudafrica di non gestire il post-apartheid con delle vendette, che avrebbero scatenato delle faide e delle violenze inaudite. Ecco, da quell'esperienza partirono tante altre esperienze. Ho visto che c'era prima un'altra riflessione, però a me era scogile. Sì, esatto, sì, di Roberta. Beh, guarda, vado un attimo io che ti volevo far vedere questa, Giorgio, perché mi fa piacere. Grande prof da parte di Monica Bonvini, è una tua studentessa? No, è una collega mediatrice, che è quella che mi tiene sempre sott'occhio se dico delle cose che non sono ortodosse. Allora, guarda, io approfitto di questa tua collega per ringraziarti, perché tu stai condividendo con noi una parte del tuo compleanno. Quindi tanti auguri e grazie per la tua disponibilità. Dopo festeggia, comunque, anche se ti abbiamo rubato una fettina di giornata. Grazie, grazie a voi. È un modo originale di festeggiare il compleanno. Siamo più di trenta in diretta, fate gli auguri al prof che ci sta portando in un viaggio molto interessante nella giustizia riparativa. A tutta palla, a Serena, perché c'era una domanda e forse tu devi altre da fare, quindi se vuoi unire l'una all'altra. Sì, allora, Roberta diceva... Scusa, eccola, trovate. Molti film, tra cui giustizia privata, tentano di imprimere nello spettatore un senso di vendetta personale giustificata nei confronti di persone che si sono macchiate di reati gravi come stupro o concilio e che, eludendo la giustizia, sono a piede libero. Non c'è il rischio che le persone, vedendo un paese che si comporta in maniera più delicata con i criminali, decidano di farsi giustizia da soli? Anche questa domanda entra nel merito delle questioni. Io riaffermo ciò che ho detto all'inizio. La giustizia riparativa non sostituisce la giustizia tradizionale, ma si affianca per fare un lavoro di giustizia più completo. Allora, sarò molto diretto e molto esplicito per rispondere a questa osservazione. La giustizia riparativa non vuol dire essere più delicati. A parte che essere delicati è una buona qualità. Non vuol dire essere tolleranti, ecco, verso chi ha commesso un reato di violenza sessuale, che personalmente lo considero grave tanto quanto l'omicidio, tanto per essere chiari, insomma, perché... Vabbè, qui il discorso si farebbe molto ampio. La giustizia riparativa si affianca alla giustizia penale. Traduco, traduco. Non sto dicendo che un violentatore si deve fare anziché 30 anni di carcere, se ne deve fare 5 perché aderisce a delle pratiche di giustizia riparativa. No, 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 no. Assolutamente non è questo il discorso. Il violentatore sessuale si fa i suoi anni di carcere, poi potrà utilizzare dei benefici che sono previsti per chi ha commesso quei reati. Va bene? Al violentatore sessuale, così come all'omicida, gli si dice fatti la tua pena in carcere, ma io ti propongo anche un altro impegno, è quella di pensare alla vittima. Va bene? Magari incontrandola, magari facendo un gesto riconciliativo, e magari questo percorso può durare 5, 10, 15, 20, 30 anni, tutto il periodo che lui sta in carcere. Quindi, attenzione, sfatiamo subito un dubbio, un equivoco. La giustizia riparativa non è uno sconto di pena. No, assolutamente. No. E' anzi un aggravamento emotivo, psicologico, a ciò che uno ha commesso. Va bene? Guardate, io ho conosciuto dei ragazzi, anche minorenni, che hanno commesso dei reati, anche molto gravi, che poi, nel loro scontare la pena, cominciano a essere molto attivi, molto bravi, molto, fanno un sacco di attività, ma quel grande attivismo è un fuggire dalla loro responsabilità. e allora, con tutte le attenzioni psicologiche, perché noi non dobbiamo giocare con le persone, come se fossimo noi tecnici, che vanno a manipolare l'esistenza delle persone, però noi possiamo dire, a chi sta vent'anni in carcere, perché ha commesso un reato grave, o noi ti proponiamo anche un'altra responsabilità, pensa alla vittima, in tanti modi, qui dovremmo fare un'altra diretta Facebook, insomma, va bene? La mediazione è di fatto un incontro preparato dai professionisti, che può portare anche dei gesti riconciliativi, ripeto, non abbiamo tempo, io spero, ma poi se andate su YouTube, trovate tantissime esperienze, del resto questo era l'obiettivo. Quindi ecco, no, la giustizia reparativa, a meno che, a meno che, venga presentata dai mass media, appunto, come una sorta di sconto di pena, ma non è uno sconto di pena, anzi, per usare gli stessi termini, è un aggravamento di pena, per certi aspetti. C'è su YouTube un filmato, che io ho rivisto, perché per prepararmi a questo incontro, ho visto alcuni filmati, in cui c'è un terrorista, che diceva dell'enorme dolore e sofferenza, prima di incontrare i figli, di una vittima delle sue azioni terroristiche, e diceva, la fatica di quei giorni precedenti, all'incontro con il figlio, di una persona, che lui aveva accesa, perché era un terrorista di Milano, sono stati molto più dolorosi dei tre anni di carcere, di isolamento, che mi ero fatto, insomma. Quindi no, no, non è un modo delicato, è un modo responsabile, per invitare tutti quanti. Ecco, però ricordiamoci, che la giustizia riparativa, non è solamente, attenzioni, la vittima è re, è sullo stesso piano, serve a entrambi, serve a entrambi. Beh, dobbiamo essere bravi a raccontarla, allora, perché immagino che Roberto, appunto, avesse fatto un accenno a quella che può essere il fraintendimento comune, cioè di essere più gentili, più approssimativi, non si tratta di essere approssimativi, si tratta di essere molto più precisi, e arrivare dentro il reato. Beh, posso raccontare un episodio che io racconto spesso, e a cui ci tengo molto, a questa cosa che vi racconto. Nel 1996, con un gruppo di amici, invitammo Antonino Caponnetto a Iesi. Antonino Caponnetto era il capo del pool antimafia di Falcone e Borsellino, tanto per intenderci. E Caponnetto girava l'Italia per raccontare questa esperienza, erano stati già... Ecco, lui Caponnetto disse questa cosa qui, che la grandezza dei magistrati di Falcone e di Borsellino è che ai mafiosi, anche ai peggiori mafiosi, eh, lui dava dei lei, li rispettava, perché Caponnetto diceva che tutti quei magistrati di quella grandissima levatura erano dei grandi magistrati che non giocavano con i mafiosi, li rispettavano, ma erano non a caso. Paradossalmente, parafrasando, citando un aggettivo, erano delicati con quei mafiosi, pensate, talmente delicati che erano vissuti come talmente pericolosi che li hanno uccisi, nel modo come noi tutti sappiamo. Ecco, allora, il discorso è che, eh, la civiltà, lo stato di diritto, eh, in qualche modo deve valere per tutti. Allora, mh, io seguo un'associazione che si occupa di tutela dei diritti dei detenuti che si chiama Antigone. Ecco, gli esponenti di questa associazione Antigone dicono sempre che il carcere è una frontiera, va bene? Il modo come noi trattiamo i detenuti sarà il modo con cui a cascata noi tratteremo tutti gli altri perché il detenuto non va perdonato, non bisogna essere indulgenti, no, assolutamente. Con chi commette reati bisogna essere estremamente severi, estremamente esigere responsabilità da loro e che paghino per quello che hanno fatto, va bene? Ma il modo con cui noi li trattiamo e tuteliamo i diritti è speculare a ciò che noi stiamo facendo nei confronti. Non c'è, non credo che ci sia alternativa. Se noi ci illudiamo di non poter tutelare i diritti di una persona perché ha commesso dei gravi rati a cascata non tuteleremo i diritti che ne so, degli anziani nell'RSA. Mi viene da fare questa battuta, mi viene da fare questa battuta. Quindi o la tutela dei diritti c'è per tutti o non c'è per nessuno in prospettiva insomma. Serena, sono arrivati altri commenti però vi lascio scorrere anche gli auguri al prof così può rispondere a chi lo, a chi sta tenendo in considerazione il suo compleanno. Auguri prof da Vassimiliano. Deborah la ringraziava, ringrazio il professore per aver dato voce in maniera così chiara, un lavoro che per noi è nello stesso tempo bellissimo e molto molto complesso. Sì, sì, A proposito, dato che Deborah Siriquini ha scritto, è un'altra mediatrice, nelle Marche esiste un centro regionale per la gestione dei conflitti che è frutto di un protocollo tra le autorità giudiziarie e la regione Marche ed altre istituzioni pubbliche. È composto da mediatori penali che si sono formati attraverso un percorso estremamente articolato, estremamente complesso, grazie a dei formatori di varie parti d'Italia, tra cui il Pool di Milano, dove operano dei mediatori estremamente preparati, e nella regione Marche da molti anni vengono effettuate delle mediazioni penali, cioè i tribunali inviano a questo centro che ha sede presso la regione Marche delle situazioni dove c'è una vittima e dove c'è un colpevole. Loro organizzano degli incontri preparatori separati per la vittima e per il colpevole. Dopodiché, se c'è il consenso sia della vittima che del reo, si fa un unico incontro di mediazione, guardate, sono incontri di mediazione alla presenza di tre mediatori, quindi è un unico incontro, ma preparato con molto scrupolo, ed è un incontro che può durare dieci minuti, come può durare anche dieci ore, ma è un unico incontro, in cui vittime e reo si mettono in confronto, si raccontano, ognuno racconta il proprio vissuto di reo e di vittima. E alla fine di questo incontro, alla fine di questo incontro, la vittima esprime il proprio vissuto. Se in qualche modo è stato soddisfatto, non si tratta tanto di dire io ho commesso il fatto, non so, perché quello magari è già stato acclarato dai tribunali, ma c'è un qualcosa di più, va bene, è una meta giustizia, è un qualcosa che va al di là della sentenza, va bene, è la capacità del reo di mettersi nei panni degli altri, usiamo un po' questo, e della vittima anche lui di mettersi a volte per certi aspetti nei panni del reo, insomma. Serena, siamo qui di Marco, ma gli avvocati che seguono i minorenni sono al corrente che la giustizia riparativa non è uno sconto di pena? perché lavorando a casa Lella e sentendo le sue parole qualche dubbio mi è venuto. Allora, sì, gli avvocati sanno che non è uno sconto di pena perché semplicemente la mediazione si avviene non estingue non estingue il procedimento chiaramente per esempio nell'ambito minorile una mediazione penale accettata da un minorenne che ha commesso un reato accettato di farla il giudice il giudice certamente ne tiene conto va bene? Ne tiene conto che non vuol dire che non lo condanna o non gli fa il processo no però certamente specialmente in ambito minorile ne tiene conto voglio dire che parliamoci chiaro un minorenne che commette un reato anche grave e che rifiuta anche la mediazione beh certo che è un ragazzo su cui lui deve lavorare molto su se stesso e qualcun altro lo deve aiutare però si poi magari potrà essere qualcuno o qualche avvocato ma come in tutte le categorie che non comprende bene il senso di alcune misure si non lo escluda a priori per tutti ma la stragrande maggioranza degli avvocati sanno che non è uno sconto di penso questo si guarda possiamo chiudere con un intervento di Lorenzo conosco bene le sue posizioni che che può essere la provocazione finale quella giusta perché è una bomba quella che che sta che ci ha appena postato se si vuole smantellare la cultura reazionaria va gridato a gran voce da un'avanguardia illuminata abolire il carcere l'autopia più feconda realistica scandalosa possibile oggi Basaglia l'applicò a un'altra istituzione inumana che ne pensi Giorgio e beh qui ci vorrebbe un'altra diretta facebook Lorenzo Calza io non ti conosco però allora devo stare attento a quello che dico perché io sono un dipendente pubblico e quindi ho un codice comportamento che devo rispettare va bene allora a Lorenzo Calza voglio dire questa cosa qui nel 1989 fu varato il nuovo codice di procedura penale minorile in base al quale il carcere minorile che si chiama istituto penale minorile aveva una funzione residuale nel 1989 la media dei detenuti minorenni era di 5.000 persone al giorno va bene una media di presenze dal 1989 in poi negli ultimi anni la media delle presenze detenuti minorili in Italia è di 500 quindi Lorenzo Calza mi verrebbe da dirti che per i minori il carcere di fatto è stato abolito e rimane per quei casi di ragazzi violenti pericolosi recidivi che hanno bisogno di un contenimento va bene quindi l'abolizione del carcere ve lo dico in maniera molto esplicita non credo che le carceri vadano chiuse ma come ma come ma come è stato fatto per i minori con grande successo perché poi il tasso di devianza minorile di delinquenza minorile in Italia è basso rispetto ad altri paesi è chiaro che se poi io vado a prendere per cento volte lo stesso fatto di reato commesso a minorenne e me lo trasmettono dieci volte al giorno per un mese intero su porta a porta da Bruno Vesta è chiaro che quell'unico episodio sembra cento episodi in realtà è uno ma le statistiche dicono che la delinquenza minori in Italia è bassa rispetto ad altri paesi che non vuol dire che non esiste ma è più bassa ecco il carcere per i minori in Italia è stato abolito la stessa cosa può essere applicata per gli adulti abbiamo visto che rispetto agli Stati Uniti di fatto il carcere in Italia è molto residuale ecco chi lavora nel settore degli adulti e non ci lavoro io ma ho dei colleghi che ci lavorano e leggo come tutti quanti voi queste dicono che si potrebbe ripensare a un a un sistema sanzionatorio per gli adulti in cui escludendo le persone pericolose eh socialmente pericolose per i oggettivi per i violenti eh ci possono essere delle misure ancora più alternative alla detenzione di quanto non lo siano attualmente va bene si può certamente ridurre la detenzione anche per gli adulti a fronte di una maggiore responsabilità rispetto a quello che hanno che hanno fatto insomma questa è la risposta bene bene guarda molto molto interessante ma siamo davvero oltre tempo massimo però Serena ti lascio la chiusura perché c'è un altro commento magari non chiediamo aggiungerlo non è una domanda sì esatto una considerazione il nostro codice penale è improntato sul principio riabilitativo della pena come previsto l'articolo 27 della Costituzione e questo diversamente da altri sistemi penitenziari quali ad esempio con l'americano che venendo nella pena una funzione afflittiva condivido le parole del professor Berti si tratta pur sempre di soggetti portatori di diritti nonostante di questi tempi molti si preferiscano la gogna mediatica guarda e la gogna mediatica potrebbe essere benissimo uno dei prossimi incontri da organizzare perché io ci tengo particolarmente a questo argomento Giorgio non so come ringraziarti sei stato preziosissimo per aprirci gli occhi perché io dico sinceramente che ero ignorante rispetto alla questione della giustizia riparativa Serena un commento finale? No io lo stesso vorrei ringraziare il professor Berti per la sua disponibilità personalmente anche per me era un argomento totalmente nuovo ed è stato molto utile a capire tante tante dinamiche grazie a voi grazie grazie nuovo a te Giorgio forse non si legge bene forse è meglio che lo dico a voce vi lascio ringraziandovi siete in 33 ancora in diretta grazie per averci seguito magari lasciate un mi piace a questa diretta fatela circolare condividetela così che tante persone possano approfondire questo tema che effettivamente è talmente scottante che non se ne parla quasi e il nostro appuntamento è per venerdì quindi tra due giorni con Marcello la mattina non vedo l'ora perché non so se lo conosci Giorgio ma Marcello è un personaggio fantastico un professor universitario pieno pieno di connessioni a mille monni che lui ha nella mente e il nostro incontro sarà intitolato limiti, confini e potenza interessante cioè l'impotenza dell'umano contemporaneo di fronte alla complessità bisognerà essere presente a prescindere guarda se non ti ha intrigato questo guarda non so cosa ti possa intrigare grazie a tutti grazie ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti